Quanto tempo serve per vendere un immobile in Italia oggi? Parliamo di questo oggi nel video. Io mi chiamo Jacopo Tartaglia, sono consulente immobiliare e settimanalmente pubblico dei contenuti, dei video, articoli che possono esserti utili nel tuo progetto di cambio casa, acquisto vendito o investimento nel mercato immobiliare. Ma cominciamo subito con l'argomento di oggi che è quanto tempo serve per vendere una casa. Comincio dicendo che non ho la sfera di cristallo e non ti potrò dire quanto impiegherai tu a vendere il tuo specifico immobile in Italia ma ti posso portare dei dati che ho preso da uno studio che ho fatto TecnoCasa nel 2019. Nel 2019 in Italia in media sono stati impiegati 129 giorni per vendere una casa. In media questo cosa vuol dire che tu impiegherai 129 giorni? No, è una statistica che include tutto, tutto lo stivale, da nord a sud, da Milano a Bari, case ristrutturate, non ristrutturate, nuove, eccetera, eccetera. E è un dato positivo perché è il miglioramento rispetto al 2018 quando erano necessari 136 giorni in media per vendere una casa. Attenzione però che c'è una grande variabilità tra le diverse zone e le diverse città in Italia perché ci sono delle città molto veloci, la più veloce a sorpresa è Bologna dove si impiegano in media 94 giorni per vendere un immobile al secondo posto Milano, che è la prevedibile, con 100 giorni in media mentre le più lente sono Genova con 156 giorni e Bari con 173 giorni, se non ricordo male e quindi diciamo che c'è abbastanza varietà in questa media di 129 tra i 94 di Bologna e i 173 di Bari. Cosa vuol dire? Che a Bari non si vendono immobili? No, si vendono immobili anche a Bari. Se ci pensate comunque 129 giorni di media non è neanche un tempo così lungo. A volte quando una persona mette sul mercato un immobile ha in mente tempistiche molto più dilatate di 129 giorni che alla fine sono 4 mesi, ok? Chiaramente qui si parla di immobili venduti quindi vorrei dirvi due cose. La prima è che non funziona il ragionamento di aspetto per ricavare un prezzo più alto perché non è che aspettando di più di questi 129 giorni posso ricavare un prezzo superiore al mercato. Se la mia esigenza, il mio prezzo di vendita è troppo alto non vendirò nemmeno in 300 giorni, ok? Poi è chiaro, sì, si sentono a volte lo zio del nonno, del padre del cugino che ha venduto a un prezzo esorbitante ma sono casi straordinari magari ha venduto a quel prezzo perché l'acquirente aveva la madre che stava nell'appartamento accanto e quindi aveva una forte esigenza di comprare quell'immobile ma stando nella media gli immobili se sono fuori mercato non si vendono neanche con tempistiche più lunghe, ok? Quindi questi tempi di cui vi sto parlando sono immobili realmente venduti. Per quanto riguarda le visite invece quante visite servono per vendere un immobile? Qui i dati sono ancora meno perché sarebbe impossibile avere una statistica di tutti gli immobili quante visite vengono fatte, eccetera, eccetera vi posso riportare la mia persona d'esperienza anche qua se un immobile è in linea con le esigenze del mercato con quello che cerca il mercato si possono vendere immobili case in pochissime visite mi è capitato di vendere immobili alla prima visita mi è capitato di fare decine di appuntamenti su un immobile senza venderlo la differenza spesso sta sempre nel soddisfare o meno le esigenze del mercato quindi se un immobile ha il giusto prezzo ha le giuste caratteristiche può essere venduto velocemente anche con una sola visita quindi quando dovete mettere la vostra casa sul mercato e volete capire quanto impiegherete a vendere potete fare affidamento sui dati che vi ho riportato e su quello che state chiedendo rispetto al reale valore medio di mercato chiaramente più ci avviciniamo al valore di mercato o addirittura leggermente sotto e più la vendita sarà veloce quindi se abbiamo bisogno di velocità abbiamo fretta di vendere quindi dobbiamo chiudere particolari situazioni dobbiamo fare dei pagamenti se stiamo trasferendo abbiamo già comprato la nostra nuova casa abbiamo bisogno di velocità dobbiamo bruciare il mercato e quindi dobbiamo metterci a un prezzo il più vicino possibile a quello di mercato più ci allontaniamo dal prezzo di mercato più sarà difficile trovare un acquinente più possiamo ipotizzare che le tempistiche si allunghino fino ad arrivare poi al limite che dicevo anche prima che oltre il quale non venderemo il nostro immobile se il prezzo è troppo alto le persone non verranno nemmeno a vederlo quindi la strategia di prezzo è fondamentale in tutti i mercati ma in quello immobiliare è essenziale e ha un'influenza molto forte anche sulle tempistiche di vendita quindi il consiglio principale è fai una corretta valutazione del tuo immobile del valore del tuo immobile prima di metterlo in vendita e questo avrà un effetto positivo anche sulle tempistiche e riuscirà a chiudere il tuo affare in maniera più rapida spero che questi piccoli consigli possano esserti utili e ti auguro un in bocca al lupo e un buon proseguimento di giornata tra il maniera più rapida non vieni a tutti